ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video decisamente un altro mood rispetto a quello della volta scorsa su auschwitz ma decisamente non era qualcosa di particolarmente allegro in questo video come vedete dal titolo vi andrò a svelare una parte di quello che ci potete vedere all'interno delle miniere di sale si trovano a 13 chilometri da cracovia e sono una tipica escursione da fare in mezza giornata appunto partendo dal centro città e magari da unire anche alla visita da auschwitz queste miniere sono composte da laghi sotterranei e statue di sale l'itinerario turistico considerate che consente di avventurarsi lungo le gallerie per circa due chilometri e di esplorare soltanto i primi tre piani della miniera che se non ricordo mare ne contiene 9 in totale avrete la possibilità di visitare 20 sale tra cui la splendida cattedrale di sale sotterranea che penso sia unica al mondo e che comunque fa parte del patrimonio unesco dal 1978 da città da città Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non mi resta che salutarvi e dirvi come al solito, have a nice life.